Un'azienda che si definisce Circolaria per il mio dovrebbe cercare di riutilizzare il materiale che ha a disposizione in maniera innovativa cercando di sfruttare al minimo le risorse energetiche e le risorse naturali che magari intendo utilizzare per la propria produzione. Circolarità per quel che ci riguarda è relativa all'intero processo produttivo quindi dal reperimento delle materie prime noi prendiamo solo l'ana locale per esempio italiana del centro Italia proveniente da greggi del centro Italia quindi reperimento materie prime processo produttivo occupandoci anche dell'eventuale poi fine vita del prodotto perché tutti i prodotti nascono e poi muoiono quindi la circolarità e la sostenibilità a tutti i livelli. Il prodotto che mettiamo sul mercato è totalmente sostenibile perché è lana tinta solo con prodotti naturali quindi un prodotto organico che un domani può ritornare nell'ambiente direttamente senza essere smaltito in alcun modo potrebbe essere messo nell'orto come pacciamante. Allora io posso raccontare all'interno della nostra azienda i piccoli accorgimenti che abbiamo fatto e adottato è quello di riutilizzare strumenti di lavoro rigenerati e ricondizionati abbiamo inserito all'interno del nostro nei nostri uffici mobili e scaffali di seconda mano abbiamo lavorato anche per poter eliminare totalmente la plastica sia nei nostri prodotti finiti che anche all'interno dei nostri uffici cerchiamo proprio di non riutilizzare plastica. Un'azienda principalmente dovrebbe lavorare sulla formazione interna dei propri dipendenti per cercare di ottimizzare i processi produttivi e diffondere queste capacità di produrre in maniera circolare ai propri consumatori o utilizzatori del prodotto aziendale stesso. Crediamo appunto che un'azienda che si definisce circolare debba ovviamente fare riferimento a quelli che sono materiali e produzioni che rimettano in circolo ciò che già esiste in maniera tale che ci sia bisogno di produrre nuovo materiale il meno possibile ma soprattutto crediamo che sia necessario appunto continuare il ciclo coinvolgere le persone in progetti di raccolta e di riutilizzo e comunicare delle filiere il più possibile trasparenti e che appunto concrete che che diano la possibilità alle persone di capire che cosa succede effettivamente nell'economia circolare. Allora un'azienda che si definisce circolare è un'azienda che ha una visione comune per tutti i collaboratori che ne sono parte. È un'azienda quindi che è un unico obiettivo che lavora ogni giorno nella motivazione e nella responsabilità dei dipendenti e dei collaboratori che ne fanno parte e che quindi guarda al futuro con attenzione e con ottimismo. Per quanto riguarda il nostro settore che è quello degli allevamenti degli insetti è fondamentale avere come input nell'intero processo un sottoprodotto e avere come output solamente prodotti come nel caso degli insetti. Prendiamo i sottoprodotti organici e li trasformiamo, li bioconvertiamo in prodotti ad alto valore aggiunto come proteine, fertilizzanti e in generale mangimistica, prodotti per la mangimistica. Ma è una domanda molto difficile a cui rispondere. Secondo me un'azienda circolare che si vuole definire circolare deve intanto essere attenta e presente sul suo territorio ma anche essere aperta appunto all'innovazione che sia digitale e non solo e aperta anche a mercati che possono venire da fuori anche dall'estero. Secondo me l'azienda che si definisce circolare è l'azienda che deve pensare dall'inizio quando progetta il prodotto che va a realizzare a che cosa ne sarà di questo prodotto tanto a fine vita quanto degli scarti di produzione del prodotto stesso guardando prima all'interno dell'azienda e poi su tutta quanta la filiera. Principalmente deve investire sempre di più sul proprio territorio e far sì che la materia prima proprio quello che è anche la risorsa del territorio possa diventare opportunità. Noi abbiamo scelto l'idea di promuovere la canapa e quindi l'olio di canapa e dal suo scarto far promuovere la farina che diventa di per sé anche materia prima delle nostre pizze e del nostro gelato. Ma poi abbiamo scelto anche di trasformare quello che per tanti è rifiuto il jeans dismesso grazie anche ad una nostra donna vittima di violenza accolta nella nostra casa e quindi di aprire una sartoria sociale e quindi questo jeans dismesso diventa invece complemento d'arredo e anche il capo che mi auguro un giorno possa diventare anche di moda. In senso ampio per definirsi circolare ma anche sostenibile deve essere quantitativa, deve poter misurare ciò che entra e ciò che esce in modo tale da compensare e annullare l'effetto dei suoi prodotti. Sicuramente bisognerebbe preoccuparsi di nuovi modelli organizzativi, sistemi produttivi che permettano alle aziende che sono in area convenzionale evolversi verso quello che è un sistema ecosostenibile e soprattutto un sistema circolare. Dal nostro punto di vista un'azienda deve concentrarsi sulla efficienza delle soluzioni o dei processi che propone, la durability, quindi il fatto che la tecnologia, il processo che propone possa durare nel tempo, la nostra nella frattispecie dura infatti 30 anni e che sia sostenibile, quindi che utilizzi dei materiali non rari, che siano facilmente reperibili e che siano anche facilmente assemblabili all'interno del processo che va appunto a proporre. Allora, partendo dalla mia azienda e quindi dall'esperienza personale posso dire che l'azienda circolare, se non altro, è quella che imposta i propri cicli produttivi in senso assoluto cercando di un utilizzo quanto più sostenibile delle materie prime al fine di produrre il prodotto che poi andrà a vendere. E questo è secondo noi il primo e più grande obiettivo. Il secondo obiettivo è quello di produrlo utilizzando quanto più energia rinnovabile possibile. Ma il terzo punto, secondo noi, è quello più fondamentale, di mettere al centro della produzione l'essere umano, sia come operatore che supporta le attività di produzione aziendale, sia come fine ultimo del prodotto e quindi mettere l'uomo al centro della produzione e quindi cercare quella, diciamo, attenzione che merita l'uomo all'interno del ciclo di produzione e quindi del ciclo dei prodotti e della vita. Dal mio punto di vista un'azienda che può definirsi circolare deve avere un'integrazione dei processi produttivi il più possibile indipendente da fonti esterne. Il fatto di riuscire ad integrare tecnologie, approvvigionamenti e soprattutto l'innovazione tecnologica all'interno dei processi produttivi è essenziale per la sostenibilità anche economica del processo. Secondo noi un elemento imprescindibile che deve avere un'impresa circolare è quello di avere un approccio integrato che tenga conto dell'intero ciclo di produzione di un prodotto, quindi dalla sua reazione alla sua fabbricazione, al suo utilizzo e riciclo dell'intero ciclo di vita che ha e non chiaramente abbandonando l'idea di garantire una sostenibilità ambientale, sociale ed economica. Sicuramente dovrebbe lavorare intanto in un percorso di sostenibilità all'interno di una serie di attività che mette in atto nella gestione ordinaria dell'azienda appunto. Nel nostro caso noi produciamo energia elettrica da fonte fotovoltaica, utilizziamo la stessa energia per le utenze della parte agricola, nella gestione del campo agricolo, ma la stragrande parte dell'energia prodotta la mettiamo in rete. Adesso stiamo aspettando le prime macchine agricole idonee per la lavorazione dei nostri campi, elettrica, e in questo modo ci avviciniamo a un'emissione di CO2 quasi zero all'interno della nostra azienda. Già abbiamo un'impronta carbonica negativa perché contribuiamo ad abbattere CO2 più di quanto ne produciamo. Nel nostro caso, dove sviluppiamo delle apparecchiature che servono per la concentrazione del sole per raggiungere temperature elevate, che possono essere poi applicate a moltissime situazioni, cosa si può dire? Dipende dove si applicano. Noi abbiamo fatto un esempio di questa applicazione che abbiamo presentato anche qui, dove queste apparecchiature che noi facciamo, che poi sono degli specchi, sostanzialmente degli specchi che inseguono il sole, è una cosa semplice, da quelli che usava Archimede per bruciare pare, forse, le vele dei romani. Queste apparecchiature le abbiamo presentate qui utilizzate per fare la tostatura del caffè, che necessitano temperature di circa 300 gradi. Queste temperature si raggiungono facilmente o semplicemente usando specchi, senza pannelli fotovoltaici, senza gas, senza elettricità, quindi senza costi sostanzialmente. E circolare in questo caso potrebbe voler dire che chi utilizzerà questo strumento sicuramente non farà scarti, non farà CO2, non farà danni all'ambiente, per cui sicuramente è uno strumento che aiuterà la circolarità del suo lavoro, però la demandiamo a chi utilizza l'apparecchio. Secondo me oggi le PM in Italia e anche in Europa o nel mondo devono approcciare la circolarità dell'azienda non solo negli atti quotidiani della creazione del prodotto, della distribuzione e del suo uso, ma anche nella circolarità delle azioni e degli stessi individui dell'azienda stessa. Nasce una circolarità secondo me sostenibile soltanto dal momento in cui a monte di qualsiasi azione c'è il backup di capire che a oggi ogni azione corrisponde a una reazione. Quindi creare un prodotto, farlo crescere, distribuirlo, farlo rientrare, produrre il meno scarto possibile e come diciamo sempre noi, utilizzare è sempre meglio che riciclare. Quindi cercare di creare un cerchio e di concludere sempre il ciclo di qualsiasi azione portiamo sul mercato o all'interno dell'azienda come operatività. Un'azienda che si definisce circolare è sicuramente un'azienda che cerca di ottimizzare tutte le proprie risorse e di non fare troppo impatto ambientale, anzi se possibile quasi un impatto zero. Sicuramente la sinergia col territorio, la creazione e il lavoro in rete e di conseguenza l'utilizzo di ciò che la natura attorno riesce a mettere a disposizione. Indubbiamente la circolarità vuol dire innovazione tecnologica, materie prime e seconde quindi materiali che nascono dalla trasformazione dei rifiuti e su un'organizzazione perché cambiare le persone al proprio interno come cultura diciamo aziendale è sicuramente un elemento fondamentale perché si può fare innovazione nei prodotti o nei processi ma sono pur sempre le persone che fanno l'organizzazione. Noi ci occupiamo di recupero dello spreco quindi quello su cui basiamo la circolarità è proprio questo cioè utilizzare lo spreco, renderlo un valore. Essere circolare vuol dire prendere in considerazione l'intero ciclo di vita di un prodotto dalla culla alla culla, from cradle to cradle come dicevano gli americani e quindi prendere in considerazione questo negli aspetti produttivi e nell'aspetto di utilizzo e di riutilizzo del prodotto. Un approccio innovativo è quello di provare anche a certificare questo impatto impatto attraverso algoritmi certificati nella blockchain che quindi rendano il sistema tecnologicamente più avanzato e più robusto. Ma per noi la circolarità nel nostro ambito è quello di utilizzare i materiali e le risorse di territorio che spesso poi sono i prodotti di scarto di molte lavorazioni agricole come canapa e paglia oppure da filiere estremamente controllate e boschive come la risorsa del legno. La terra cruda è una risorsa naturale che troviamo ovunque e quindi per noi circolarità è quello di interagire con queste realtà di territorio che abbiano delle idee di innovazione e di rimessa in gioco anche dei loro prodotti di scarto. Secondo me la circolarità si definisce nel momento in cui si utilizza come proprio materia prima in un processo produttivo un rifiuto e l'innovazione deriva dal fatto di poter utilizzare questo rifiuto per creare qualcosa di nuovo meglio secondo il design perché alla fine siamo in Italia. Il digitale è secondo me uno strumento che al giorno d'oggi è fondamentale senza però snaturalizzare troppo ciò che è il made in Italy, l'artigianato e la qualità del nostro paese che è quello che ci rende unici alla fine nel mondo. Quindi secondo me è uno strumento in più da non appunto abusare perché alla fine poi il made in Italy è quello che ci rende secondo me diversi nel mondo. Allora in qualità noi di concessionari di vendita di prodotti cosmetici noi abbiamo fatto una scelta importante a tratti anche un po' limitante e cioè scegliamo come aziende produttrici solo aziende che hanno il tema della sostenibilità, il tema del risparmio energetico, il tema del riutilizzo delle risorse nel loro ciclo produttivo come fattori prioritari. Infatti Cosmedera Verde ne è un esempio perché ad esempio l'acqua che è utilizzata per la produzione viene appunto riciclata fino al 60-70% e anche il packaging esterno innovativo ridotto al minimo permette un consumo, un risparmio fino al 50% di carta. Allora come WeCity noi aiutiamo le piccole imprese, le medie e grandi imprese e le pubbliche amministrazioni ad adottare comportamenti sostenibili in ambito mobilità. Quindi questo permette di fare nell'ambito mobilità quel passo che serve perché poi la circolarità otteniamo attraverso una serie di azioni, lo abbiamo visto anche nella presentazione di oggi, le grandi aziende compongono una serie di azioni per poter arrivare alla sostenibilità e alla circolarità. Il nostro contributo è quello di aiutare queste entità sia pubbliche che private a fare la loro parte all'interno dell'ambito mobilità, quindi incentivare i dipendenti, i cittadini e i clienti a spostarsi in maniera più sostenibile con bicicletta, camminando, usando i mezzi pubblici e condividendo l'auto. Grazie a tutti.